Si avvicina a grandi passi il big match del girone A del campionato di eccellenza, definito da più parti la gara dell'anno, tra due squadre che puntano allo stesso obiettivo, la promozione diretta in Serie D, che solo il primo posto può garantire. Il secondo porta solamente ai play-off, quasi una lotteria, un cammino difficile e ricco di incognite che difficilmente culmina nel salto di categoria. Ne sa qualcosa la stessa Profavara, terza lo scorso anno alle spalle di Enna e Acragas. I favaresi si fermarono in semifinale contro l'Enna, vittorioso 3-0, poi toccò all'Enna lo stesso destino, superato al termine della doppia finale dal Siracusa. Con sei punti di vantaggio sulla Profavara, dinanzi al pubblico amico, la Nissa può affrontare i favaresi con relativa serenità. Sono ancora 12 le giornate da disputare 36 punti in palio, tanti per considerare chiuso il discorso primato. Da qui alla fine di febbraio si consumerà comunque una fase importante della stagione dei biancoscudati, che dopo la Profavara saranno chiamati ad affrontare il Geraci fuori casa, il Mazzara 46 al Tomaselli e la Don Carlo a Misilmeri. Sembrerebbe più agevole il successivo cammino per i favaresi, che dovranno vedersela nell'ordine con Athletic Palermo, Castellammare, Fulgatore e Folgore. In casa Profavara è piena la consapevolezza di poter riaprire il campionato con una vittoria, ma l'impresa si preannuncia ardua contro una Nissa imbattuta dalla prima giornata di campionato. I favaresi non lasceranno nulla d'intentato per riscattare l'amara sconfitta subita nel confronto diretto con i nisseni il 30 settembre scorso allo stadio Saraceno di Ravanusa, seppure due volte in vantaggio, un 2-3 maturato nel finale. Una partita in cui la Nissa ha dimostrato di avere cinismo e determinazione, due caratteristiche che da quel momento in poi hanno contraddistinto il percorso di Privitere e compagni. L'ultimo precedente a Caltanissetta tra Nisse e Profavara risale al 3 settembre dello scorso anno, gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia. Risultato finale 1-0 per la Nissa con momenti di tensione culminati con l'espulsione di un giocatore favarese, la Piana, e del tecnico biancoscudato, Terranova. Scintille anche all'andata, Porto Empedocle, partita finita 3-1 per gli Agrigentini, prima del triplice fischio finale, due espulsi, neri per la Nissa e retucci per la Profavara. Domenica si prevede il record stagionale di presenze di incassi al Tomaselli, tra 3.000 e 4.000 gli spettatori attesi allo stadio con una nutrita rappresentanza di sostenitori ospiti. A prescindere dal risultato finale, è importante che vinca lo sport, che sia una vera e propria festa in campo e sugli spalti. La prima cosa che conta per i bambini e per le famiglie che troveranno posto non solo in tribuna, anche in curva. Come sempre, in questi casi si prospetta un servizio d'ordine imponente, con i tifosi dei gruppi organizzati in settori diversi, ad oltre 100 metri di distanza l'uno dall'altro.